ciao e benvenuto o bentornato alla meditazione di oggi questa meditazione è dedicata all'energia creatrice e magica della luna piena per questa meditazione siediti o sdraiati in un luogo confortevole puoi sederti o distenderti come preferisci cerca però di non essere disturbato e di mantenere la schiena quanto più dritta possibile prenditi tempo per metterti comodo e quando sei pronto chiudi gli occhi fai due o tre respiri profondi inspira dal naso ed espira delicatamente dalla bocca molto lentamente ad ogni respiro ti accorgi come tutto il corpo inizia a rilassarsi e ad ogni inspiro le pareti della stanza è come se si allontanassero sempre di più da te e inizia a sentire il corpo leggero e rilassato come se stessi galleggiando sull'acqua ora sei davvero sospeso tra la terra e il cielo a livello dell'acqua un lago il mare quello che preferisci e notte c'è quiete pace percepisci i rumori della natura del vento e tutto intorno a te l'atmosfera è rischiarata dai raggi di colore argento della luna piena che brilla proprio sopra di te i raggi della luna arrivano dritti nel punto fra le tue sopracciglia e da qui iniziano ad avvolgere prima la tua testa ti sembra di percepirli all'interno della tua mente i pensieri sono più chiari e calmi e man mano questa luce inizia ad avvolgere anche le spalle il torace le braccia ti circonda e scende verso il basso fino alle punte dei piedi percepisci questa luce di amore di protezione e di guarigione prenditi un attimo per pensare a quello che vorresti lasciare andare nella tua vita pensa alle relazioni al lavoro al corpo fisico alle tue emozioni qualsiasi cosa senti che abbia terminato il suo ciclo o tutto quello che avverti come un impedimento un ostacolo o ancora tutto ciò che è doloroso e pesante osservalo davanti ai tuoi occhi se preferisci puoi dargli una forma un colore e ora chiedi a questa luna piena e splendente di portare con sé tutte queste cose e man mano inizi a vederne una dopo l'altra andare incontro a questa luce piano piano ogni cosa si dissolve e viene completamente inglobata dai raggi della luna al suo posto senti nel tuo cuore perdono amore gratitudine e pienezza in questa notte di luna piena tutto è perfetto così com'è e i raggi color argento che ti attraversano e ti circondano ti stanno liberando in tutte le cellule in tutti i tempi in tutti i luoghi in tutte le forme e dimensioni per il tuo sommo bene inspira ed espira e immagina di portare dentro di te fino al cuore la luce della luna le sue vibrazioni ti proteggono e ti liberano ora pensa invece a quello che vorresti manifestare nella tua vita e se queste immagini questi pensieri saranno per il tuo sommo bene allora la luna ti darà l'energia e la forza per manifestarli nella tua vita immagina già queste cose davanti ai tuoi occhi senti le emozioni che producono nel tuo cuore le energie che risvegliano nella tua anima e chiedi alla luna piena di prendere in carico questi tuoi desideri per il sommo bene tuo e di tutte le persone a te care porta tutta la tua attenzione la tua intenzione il tuo amore a queste immagini e inizia a percepire un senso di espansione di gratitudine profonda per tutto quello che questa energia lunare ti sta donando ora e ti permetterà di manifestare in futuro chiedi ora alla luna di liberarti e di permetterti di creare la vita migliore che tu possa creare in questo tempo e in questo spazio per il tuo sonno bene per la tua crescita per il tuo risveglio ora tutto è perfetto pian piano piano è tempo di ritornare al corpo fisico alla stanza che ti circonda al tuo respiro e al battito del cuore puoi iniziare a muovere le dita delle mani e dei piedi delicatamente puoi accennare un sorriso con le labbra e quando sarai pronto potrai girarti su un fianco e se sei disteso potrai rimetterti seduto puoi ripetere questa meditazione alla vigilia della luna piena o tutte le notti di luna piena spero che ti sia piaciuta se si fammelo sapere con un like al video e iscriverti al canale per non perdere i prossimi caricamenti tanta luce alla prossima e iscriviti al canale per non perdere i prossimi caricamenti